Come due mesi fa a Limatola, allora anche la benzina, stavolta soltanto una bombola di gas. L'hanno aperta ed hanno scatenato le fiamme, limitati per fortuna i danni, annerita la serranda, poca cosa rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere con l'esplosione del contenitore piazzato dinanzi ad una sala cinesca del supermercato Eurospin a Benevento. Via Planco, ad un passo dalla stazione Appia, il teatro del nuovo attentato contro un'attività commerciale. L'ultima a finire nel Milino ha sede in un piazzale contornato da Palazzi. Sono stati dipendenti nel prendere servizio intorno alle 6 a scoprire ciò che era stato organizzato. Polizia e pompieri sono accorsi sul posto. La zona è stata messa in sicurezza. Resta l'allarme per l'ennesima intimidazione, che per le modalità ricorda quella subita a febbraio in provincia da un altro supermercato. Le indagini dovranno stabilire se dietro l'obiettivo di disseminare la paura ci siano finalità estorsive o altre motivazioni. Si allunga la lista degli episodi, numerosi quelli rimbalzati all'onore delle cronache nel Sannio. Segnale di un attivismo della criminalità che preoccupa l'opinione pubblica, non da oggi e non solo per gli attentati.